Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Ricorderete o almeno lo ricorderanno coloro che la scorsa settimana ci hanno seguito che abbiamo parlato di ipertensione con un'occhiata particolare al fenomeno nelle persone anziane che sono le più soggette a subire queste alterazioni. Il discorso si è presentato molto interessante, meritava approfondimento, tanto approfondimento che i minuti che solitamente sono riservati a Spazio Saluti si sono rivelati insufficienti a portare a termine tutta la scaletta delle questioni che sono legate all'ipertensione e che avremmo voluto trattare. Per questo abbiamo pregato il dottor Antonio Del Giudice di tornare fra noi, lui ha accettato volentieri il nostro invito e quindi con lui continueremo il nostro discorso sull'ipertensione per dare ai nostri telespettatori, vista anche la diffusione di questo problema, quei consigli utili a prevenire e a modificare lo stile di vita per fare in modo che questa patologia possa scatenare effetti che possono diventare, come abbiamo detto già la volta scorsa, anche mortali. Dunque riprendiamo esattamente da dove ci eravamo fermati. Il dottor Antonio Del Giudice che è nefrologo ma che è anche neoresponsabile del centro dell'ipertensione di casa sollievo della sofferenza ci stava spiegando che la pressione, soprattutto per i soggetti a rischio, deve essere misurata a casa ma può essere misurata con una strumentazione adeguata anche in ambiente sanitario. Allora riprendiamo da qui. Quando si deve misurare a casa, quando si deve misurare in ospedale e quando si deve misurare per 24 ore, come accennavamo proprio sette giorni fa. Buonasera a lei, buonasera agli spettatori di Padre Pio TV. Grazie ancora per avermi invitato a parlare di ipertensione arteriosa. Sostanzialmente quando si va dal medico, nello studio del medico si misura la pressione, quella è la pressione arteriosa cosiddetta clinica che viene registrata nell'ambiente medico. Ma il paziente può anche misurare da sé la pressione arteriosa a casa o nel proprio ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro con apparecchi semiautomatici che sono sempre più disponibili al giorno d'oggi e che offrono la possibilità di avere dei valori di pressione arteriosa registrati che sono più vicini a quelli veri del paziente. Perché quando si va dal medico un po' il paziente è in misura minore o maggiore, in misura più o meno consapevole esibisce una cosiddetta reazione di allarme che è frutto di ansia per cui i valori pressori possono essere falsamente elevati, quelli registrati nello studio del medico. Invece nella tranquillità del proprio ambiente di caso di lavoro il paziente può misurare la pressione e rilevarla anche più bassa di quella rilevata nello studio medico. E questa è la pressione arteriosa domiciliare. C'è poi il sistema del monitoraggio continuo non immassivo della pressione arteriosa che dura 24 ore ed è la cosiddetta pressione arteriosa monitorata che in aggiunta alle due modalità precedenti offre la possibilità di stimare ancora con maggiore precisione la pressione arteriosa vera, lo metterei tra virgolette vera. Stiamo vedendo questo apparecchietto che se non sbaglio si chiama oltre pressorio, giusto? Oltre pressorio o apparecchio per il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore che sostanzialmente consiste in un bracciale che è collegato ad un monitor attraverso un cavo. Il tutto è disposto in maniera che periodicamente, solitamente durante il giorno, cioè durante le ore di velo, ogni quarto d'ora oppure ogni 20 minuti l'apparecchio si metta in funzione e rilevi la pressione arteriosa. Poi durante le ore notturne noi possiamo predisporre sì che l'apparecchio funzioni e quindi il bracciale si gonfi e rilevi la pressione arteriosa ogni mezz'ora oppure ogni 40 minuti per ridurre il disagio al paziente durante il riposo notturno. Però dicevamo la volta scorsa che è importante, anche se magari più dilazionato nel tempo, rilevare la pressione anche di notte. Perché? Perché fisiologicamente la pressione arteriosa durante il riposo notturno è più bassa, è più bassa. È in media più bassa del 10% rispetto ai valori rilevati di giorno. E tuttavia ci sono delle situazioni, delle condizioni patologiche, quali, che so, l'apnea ostruttiva del sonno, della quale abbiamo fatto cenno la volta precedente, o malattie croniche, quali per esempio la malattia renale cronica. Io che sono nefrologo uso questo termine, che altrimenti si può chiamare insufficienza renale cronica. Ebbene, i pazienti affetti da tale condizione esibiscono un pattern pressorio, un profilo pressorio caratterizzato da valori pressori registrati durante la notte che sono sensibilmente più alti di quelli registrati di giorno. C'è, per così dire, un'immersione del ritmo veglia-sonno, sonno-veglia o ritmo circadiano. Il monitoraggio della pressione arteriosa dalle 24 ore offre questa possibilità di rilevare questo particolare profilo pressorio e quindi essere utile e dal punto di vista diagnostico e prognostico e terapeutico per modulare meglio la somministrazione o l'assunzione da parte del paziente della terapia antipertensiva. Abbiamo spiegato perché è utile e necessario rilevare la pressione a casa, perché è l'ambiente nel quale la pressione si esprime nei suoi valori reali. Però, ecco, a casa a rilevare la pressione è o lo stesso paziente o qualche familiare, quindi non addetti ai lavori. Vogliamo dare qualche consiglio su come prendere in modo corretto la misurazione e la pressione? Certo. Allora, a casa il paziente deve innanzitutto mettersi seduto tranquillamente nel proprio su una poltrona, su una seda, con il braccio appoggiato sul bracciolo della poltrona o sul tavolo o sul letto, se è disteso in posizione semiassisa sul letto, rimanere a riposo per almeno cinque minuti, mettere, adattare il bracciale al braccio, al braccio dell'arto cosiddetto non dominante. Che significa? Significa che se un soggetto è destrimane e quindi usa la penna per scrivere, usa la destra per scrivere, usa la destra per radersi, usa la destra per attaccare il quadro al muro e quindi è destrimane, il suo braccio destro è quello dominante. La pressione arteriosa non va misurata al braccio destro, ma al braccio controlaterale, quindi in un soggetto destrimane la pressione arteriosa va misurata al braccio sinistro. Per curiosità, perché? Perché il braccio dominante è abitualmente uso ad esercitare un maggior lavoro fisico e questo può far sì che da quel lato la pressione arteriosa risulti più alta. Qualche altro suggerimento? Per tutti i mancini, coloro che non sono destrimani, si considera, si consiglia la possibilità di misurare la pressione quindi al braccio destro. Personalmente, ma questo è quello che riferisco sulla base dei consigli delle linee guide delle società internazionali, viene consigliato di ripetere la pressione, di misurare la pressione arteriosa tre volte di mattina in una fascia oraria generalmente compresa tra le 6 e le 9 e tre volte distanziate tra di loro di due minuti e ripetere le misurazioni ancora almeno tre volte alla sera a distanza di 12 ore, ovvero tra le 18 e le 21 e registrare e riportare su un diario tutte e tre i valori registrati, sia al mattino che alla sera. Questo vale soprattutto quando il paziente è un paziente di nuova valutazione, ovvero quando il paziente, al paziente si cambia la terapia per monitorare, il paziente riporta su un diario questi valori registrati per una settimana, dopo una settimana, dieci giorni torna dal medico e insieme valutano se la terapia è stata efficace, non ha prodotto disturbi e soprattutto non ha prodotto effetti collaterali. Invece quando ci si trova in un periodo di non valutazione dell'efficacia della terapia, è sufficiente che a casa il paziente rilevi la pressione una volta al giorno o è sempre meglio vederla nelle tre fasi che abbiamo detto? Diciamo che una volta che il paziente ha stabilizzato la propria pressione arteriosa, è sufficiente che la misuri anche solo una volta al giorno o una volta a giorni alterni o due volte alla settimana. Così, insomma, se il paziente impara a conoscere la propria pressione, impara ad essere attore della gestione, co-gestore insieme con il medico, della propria ipertensione e del trattamento della propria ipertensione. e quindi non deve essere poi un'ossessione. Invece, utilizzando l'oltrepressorio, abbiamo proprio una sorta di tracciato che ci dà l'indicazione di come la pressione varia nel tempo. Ecco, la regia ce lo sta mostrando, ci vuole spiegare che cosa si ricava? È un tracciato di una pressione arteriosa di un soggetto normale, quindi è un tracciato relativo alla registrazione di 24 ore in un soggetto che ha un profilo pressorio normale con l'attesa caduta, quindi l'atteso calo pressorio durante le ore del riposo notturno, che sono quelle che appaiono guardando nell'immagine superiore a sinistra della figura, dove le misurazioni sono anche meno numerose, sono meno frequenti, sono più diradate, quello che corrisponde alla notte, perché appunto abbiamo impostato l'apparecchio in modo che di notte disturbi il meno possibile. Ecco, qui abbiamo invece un tracciato di un paziente che ha qualche problema. Questo è un paziente con malattia renale conica, diciamo malattia renale conica, una volta si diceva insufficienza renale conica, adesso noi nefrologi, ma anche i medici di medicina generale o gli altri specialisti dell'ipertensione sanno benissimo che la malattia renale conica ha diversi stadi. Questo è un paziente che comunque ha una malattia renale conica avanzata, in questi soggetti il profilo pressorio può essere alterato, così che la pressione di notte risulti più elevata che quella di giorno. È il fenomeno dell'immersione del dipping, cioè il paziente non presenta il calo pressorio dipping notturno, anzi c'è l'immersione, quindi è un fenomeno piuttosto frequente nei soggetti affetti da malattia renale conica. E poi abbiamo un altro tracciato, un ultimo tracciato di un paziente, anche questo che presenta dei problemi. Sì, questo è un paziente con feocromocitoma. Il feocromocitoma è una condizione, è una forma di ipertensione secondaria dovuta ad un eccesso di secrezione da parte delle ghiandole surrenaliche, per precessione da parte della midollare delle ghiandole surrenaliche, delle catecolamine che sono l'adrenalina e la noradrenalina. L'eccesso di produzione di queste sostanze può comportare la presenza di crisi ipertensivi, di picchi pressori con variabilità assolutamente imprevedibile. Un soggetto può avere una crisi, sei crisi in un giorno, dieci crisi in un giorno, che sono quelle che abbiamo visto nel tracciato di cui è la figura proiettata, oppure può non averne per mesi o addirittura per anni e poi fare una crisi importante. Ora vogliamo chiedere al dottor Del Giudice che ci sta parlando di ipertensione come si può classificare, come si possono definire le varie forme di ipertensione sulla base delle misurazioni che abbiamo detto possono essere fatte a casa, ambulatorialmente oppure in ambiente clinico. Sì, a questo punto noi abbiamo diverse modalità di definire l'ipertensione. qualora sia misurata nello studio del medico facciamo riferimento alla pressione arteriosa che abbiamo definito clinica e quindi un soggetto è iperteso quando la sua pressione è uguale o superiore a 140 su 90. 140 di sistolica e o 90 di diastolica. Abbiamo detto la sistolica essere la massima, la diastolica essere la minima. Quando invece il paziente rileva da sé con il monitoraggio pressorio a domicilio la pressione arteriosa, questa per essere normale non deve superare i 135 su 85 mm di mercurio. Al di sopra di questi valori si parla di ipertensione. Quando invece ricorriamo al monitoraggio delle 24 ore, allora possiamo distinguere la pressione arteriosa registrata nelle 24 ore presa nella loro globalità e allora deve essere superiore la pressione a 130 su 80 mm di mercurio. Al di sopra di questi valori soglia si parla di ipertensione. Se poi vogliamo dividere le ore del giorno, di veglia, di attività da quelle del riposo notturno, allora di giorno perché sia normale la pressione, perché sia considerata normale la pressione rilevata con il monitoraggio delle 24 ore non deve superare i 135-85 mm di mercurio e di notte non deve superare i 120-70 mm di mercurio. Abbiamo detto che la pressione misurata a casa è quella più veritiera, più vicina a quella reale, a quella ordinaria perché può scattare uno stato d'ansia, può essere il camice bianco che impute timore. Esatto, c'è il cosiddetto fenomeno dell'ipertensione, fenomeno del camice bianco è correlato alla cosiddetta ipertensione del camice bianco che è una falsa ipertensione perché se il soggetto va nello studio del medico e il medico gli trova una pressione arteriosa uguale o superiore a 140-90 mm però lo stesso paziente riferisce anche a casa con il proprio apparecchio ha monitorato la pressione e la pressione non ha mai superato i 135-85 mm di mercurio allora siamo in presenza molto verosimilmente di una condizione di ipertensione da camice bianco in cui gioca un ruolo importante l'ansia e la reazione di allarme del trovarsi di fronte al medico c'è anche un fenomeno molto interessante che è il fenomeno speculare di questa il fenomeno esattamente opposto c'è uno che vede il camice bianco e si tranquillizza sono in buone mani poi va a casa e trova la pressione alta monitorandolo con il proprio apparecchio quindi se un soggetto nello studio del medico presenta, esibisce valori di pressione arteriosa inferiore a 140 su 90 mm di mercurio e a casa invece trova una pressione arteriosa elevata, cioè superiore ai valori sogni che abbiamo definito di 135-85 allora questo oggetto è definito come affetto da ipertensione cosiddetta mascherata che ha anche una sua rilevanza prognostica in quanto può nel tempo qualora non opportunamente trattata progredire verso una forma di ipertensione sostenuta non controllata e difficilmente controllabile è possibile fattore di danno a carico degli organi bersaglio che abbiamo individuato la scorsa settimana nel cuore nel cervello negli occhi nei vasi arteriosi e nel rene e la volta scorsa abbiamo anche detto che non tutto si può con i farmaci per tenere sotto controllo la pressione e che occorre anche aiutarsi con uno stile di vita adeguato e allora la volta scorsa ne abbiamo parlato in maniera diciamo abbastanza veloce vogliamo dare quei consigli utili agli ipertesi per fare in modo che i farmaci raggiungano l'obiettivo? Sì prima di iniziare un trattamento antipertensivo è bene è bene dare consigli atti a modificare positivamente lo stile di vita e quindi soprattutto consigli tesi a una corretta alimentazione e ad una opportuna attività fisica per quanto attiene all'alimentazione è risaputo che la riduzione dell'apporto sodico con la dieta è fondamentale qualora si voglia approcciarsi correttamente al trattamento dell'ipertensione le diete ipersodiche producono più facilmente ipertensione nei soggetti predisposti comunemente si sa che il sodio si trova nel sale che è cloruro di sodio esatto sale e quindi diciamo che gli ipertesi sanno che devono tenere il sale lontano dai loro piatti ma si trova anche in altri cibi il sodio? naturalmente naturalmente il sale si trova il sale si trova negli inzaccati negli alimenti conservati negli alimenti salati che so i salumi i formaggi stagionati le conserve alimentari in genere le olive le acciughe il tonno e quant'altro è opportuno ridurre l'apporto di sale con la dieta a 5-6 grammi al giorno in tale ottica in tale ottica si consiglia per esempio in un soggetto iperteso che vive in famiglia di mangiare pure la pasta lessata con la giusta quantità di sale ma di evitare poi il sale aggiunto nel condimento per esempio nel condimento condire diversamente la carne il pesce l'insalata le verdure condirle diversamente senza usare il cloruro di sodio il sale il comune sale oltre al sodio cos'altro e poi è importante anche ridurre l'apporto di bevanti alcoliche e quindi ridurre l'apporto di alcol a 10-20 grammi al giorno nel maschio e nell'uomo e a 20-30 grammi al giorno nella donna diciamo che siamo al bicchiere di vino per pasto al bicchiere di vino un bicchiere di vino di media grandezza un bicchiere di vino rosso di media gradazione contiene 12 grammi già un po' sopra 12 grammi di 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 alcol così pure una birra media una birra da 330 millilitri contiene 12 grammi che sono contenuti pure in un bicchierino da bar di superalcolico amaro diciamo che per gli uomini va bene per le donne siamo già un po' sopra il dosaggio esatto esatto bisogna stare e porre maggiore attenzione invece a non far mancare l'apporto di vegetali frutta acqua acqua l'acqua è la base se lei vede uno schema ecco dalla piramide alimentare alla base c'è l'acqua 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 deve il nostro organismo l'organismo umano è composto per la maggior parte di acqua quindi è fondamentale consigliare un apporto idrico adeguato che deve essere almeno superiore a un litro e mezzo al giorno e deve essere un'acqua un'acqua oligominerale acqua oligominerale perché ci sono poi le acque minerali che hanno un residuo fisso alto e che sono salate sono ricche di sodio e quindi quelle fanno male fanno male fanno bene in altre condizioni non so l'acqua minerale è consigliata alle donne che hanno partorita e che allattano oppure ai bambini in crescita ma ai soggetti adulti soprattutto se affetti da patologie quali l'ipertensione o la malattia renale cronica è suggerita e consigliata l'apporto di almeno un irremezzo di acqua oligominerale poi bisogna anche tenere sotto controllo la dieta esatto non mangiare troppo non mangiare troppo cercare di non superare un certo peso corporeo che messo in rapporto all'altezza definisce l'indice di massa corporea ecco l'indice di massa corporea non deve superare 25 l'indice di massa corporea si calcola facilmente dividendo il peso corporeo del soggetto per il quadrato dell'altezza espresso in metri consigliare questo consigliare un'attività fisica regolare si può consigliare una corsa leggera un'attività fisica moderata aerobica una corsa leggera o una marcia a passo sostenuto protratto per almeno 30 minuti e per almeno 5 giorni alla settimana e mettere di fumare quindi anche il fumo anche il fumo e in che modo per esempio il fumo perché mentre diciamo abbiamo spiegato i meccanismi che gli alimenti producono sulla pressione il fumo uno può pensare vada a danneggiare soltanto l'apparato respiratorio invece che relazione con l'apparato cardiovascolare in acuto il fumo di una sigaretta fa aumentare la secrezione fa aumentare l'attività del sistema nervoso simpatico la liberazione delle catecolamine di cui abbiamo già parlato e determina un effetto vasocrestrittore in acuto così come il caffè ma anche i fumatori cronici poi sviluppano una patologia cronica una patologia vasale cronica sicché poi il fumo determina l'abitudine al fumo quindi il fumatore abituale diventa poi a maggior rischio di sviluppare un'ipertensione indipendentemente dagli altri fattori cioè fattori genetici ambientali dietetici e malattie abbiamo detto qual è lo stile di vita corretto per far funzionare al meglio la terapia farmacologica che viene assegnata in pazienti ai pazienti ipertesi e ora cerchiamo di capire quali sono i farmaci prescelti per ottenere appunto che la dieta insieme alla terapia farmacologica faccia il suo effetto beh ci sono diverse possibili scelte c'è un'ampia scelta di farmaci antipertensivi a giorno d'oggi si è visto che molte volte quando non accompagnata dall'osservanza di adeguate misure di correzione dello stile di vita un solo farmaco spesso non è sufficiente a tenere sotto controllo la pressione arteriosa nella maggior parte dei casi sicché noi abbiamo i diuretici che favoriscono l'eliminazione di acqua e di sodio di sale abbiamo i carci antagonisti abbiamo gli inibitori dell'enzima di commersione i cosiddetti acci inibitori abbiamo gli antagonisti recettoriali dell'angiotensina abbiamo i beta bloccanti abbiamo la possibilità di associare anche farmaci appartenenti a queste diverse categorie di farmaci ci sono delle associazioni che sono consigliate e delle altre che non sono consigliate per esempio associare un diuretico ad un carcio antagonista o un diuretico ad un acinibitore o un diuretico ad un inibitore dei recettori dell'angiotensina è di beneficio qualche problema in base ai risultati di studi clinici recenti ha dato l'associazione tra due farmaci che agiscono sullo stesso sistema voglio parlare voglio dire gli acinibitori e gli antagonisti recettoriali dell'angiotensina si è visto che a lungo questi farmaci consentono sì di ottenere un più adeguato controllo della pressione arteriosa però alla lunga possono determinare dei danni degli effetti collaterali in termini di patologia soprattutto venale quindi è sempre uno specialista che in base alla risposta e in base al controllo degli eventuali effetti collaterali determina gli abbinamenti e i dosaggi di farmaci certo tenendo presente comunque che abbiamo sempre davanti a noi non la malattia ma il singolo soggetto il singolo soggetto ammalato e quindi per quanto possibile bisogna come già diceva il dottor Greco nel suo intervento la scorsa settimana bisogna ritagliare su misura il trattamento antipertensivo a misura del soggetto che ci si presenta per cui se è un soggetto che si è visto al monitoraggio delle 24 ore avere valori pressori elevati di notte bisogna dargli una terapia che gli consente di tenere bassa la pressione arteriosa durante la notte e quindi anche somministrarla consigliarne l'assunzione al momento di andare a letto questo per tenere sotto controllo la pressione aterrosa di notte e per evitare evitare i rialzi pressori nelle prime ore del risveglio mattutino al risveglio nelle prime ore del mattino che sono quelle pericolose le ore più pericolose sono quelle delle prime ore del mattino perché aumenta la pressione perché c'è una maggiore aggregabilità piastrinica una maggiore attività del sistema nervoso simpatico questi fattori concorrono ad accrescere il rischio che gli eventi cardiovascolari gli eventi cardiovascolari o cerebro vascolari avvengono per lo più nelle prime ore del mattino abbiamo descritto finora i farmaci che tengono sotto controllo la pressione ci sono dei farmaci che invece servono ad evitare gli effetti collaterali dell'ipertensione certo ci sono ci sono dei farmaci che aiutano che aiutano a che aiutano a a trattare i fattori di rischio associati con l'ipertensione che sono soprattutto la la malattia renale che sono soprattutto la dislipidemia cioè l'aumento del colesterolo o dei trigliceridi o di entrambi e sono le statine per esempio che vanno somministrate sicuramente nei pazienti che hanno problemi cardiovascolari e che devono essere somministrate alla posologia idonea a raggiungere un determinato obiettivo quello di abbassare il colesterolo cosiddetto cattivo il colesterolo LDL il colesterolo a bassa densità le lipoproteine a bassa densità che nei soggetti con malattia coronarica conclamata quindi con cardiopatia ischemica deve essere tenuto molto basso al di sotto di 70 mg per decilitro e negli altri nei soggetti ipertesi comunque a rischio deve essere tenuto al di sotto di 130 ma qualcuno dice anche 115 mg per decilitro e poi c'è la prevenzione della c'è l'impiego degli antiaggreganti piastrinici quando parliamo di antiaggreganti facciamo riferimento soprattutto alla aspirina a basso dosaggio si è visto che l'aspirina a basso dosaggio che poi è acido acetilsalicilico quindi alla dose di 100 mg come esiste in commercio in Italia però in America nel paese anche lo sa si esistono anche le formulazioni da 75 mg previene previene gli eventi cardiovascolari e quindi è utile nei pazienti che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare è assolutamente da consigliare l'aspirina o l'acido acetilsalicilico a basso dosaggio se ne può valutare l'uso anche nei pazienti che non hanno avuto in precedenza eventi cardiovascolari importanti ma sono ipertesi o con ridotta funzionalità renale o che comunque presentano un profilo di rischio cardiovascolare moderato alto in questi soggetti purché la pressione arteriosa sia adeguatamente controllata va considerato l'impiego dell'aspirina a basso dosaggio aspirina che del resto non è consigliabile quando abbiamo di fronte a noi un soggetto iperteso il cui rischio cardiovascolare globale è moderato o addirittura basso perché si è visto che in questo caso in questi soggetti i rischi e i benefici del trattamento tutto sommato si equivalgono c'è una strategia particolare nel trattare i pazienti anziani? nei pazienti anziani bisogna stare attenti certo bisogna usare la massima cautela possibile perché gli effetti collaterali sono possibili sono dietro l'angolo un soggetto anziano è un soggetto con un alterato alterato equilibrio fragile sono pazienti fragili che hanno un fragile equilibrio della regolazione del sistema circolatorio cerebrale quindi l'abbassare troppo la pressione in questi soggetti può determinare essendo venuti meno o essendo meno funzionanti i fenomeni di adattamento cerebrale possono esibire dei fatti degli episodi di ipotensione quindi avere l'ipotemia avere abbassamento della pressione caduta a terra perdita di conoscenza problemi problemi relativi a ischemia cerebrale ischemia cerebrale per cui nei soggetti tutto sommato oggi gli anziani sono definiti i soggetti che hanno compiuto i 65 anni c'è qualcuno che dice fino a 75 anni si parla di giovani anziani comunque nei soggetti sostanzialmente forse l'Inps che dice questo nei soggetti superiori ad 80 anni nei soggetti di età inferiore ad 80 anni purché in buone condizioni del resto in buone condizioni e purché lo tollerino si può tentare di raggiungere l'obiettivo di tenere la pressione al di sotto di 140-90 come negli adulti non anziani nei soggetti anziani di età superiore a 80 anni ci si può accontentare anche di tenere la pressione arteriosa soprattutto la sistolica tra 140 e 150 mm di mercurio proprio per evitare che questi fenomeni di ipotensione indotti da farmaci ringraziamo allora il dottor del giudice per la completezza delle informazioni che ci ha dato intanto stiamo vedendo una locandina la locandina della undicesima giornata mondiale contro l'ipertensione che a livello mondiale è prevista per il 17 maggio ma che a seconda dei centri aderenti garantisce la possibilità di misurare gratuitamente la pressione di avere consigli dagli specialisti in diversi centri a casa sollievo per esempio ciò avviene il 15 e il 16 maggio quindi è un'utile occasione per cominciare a porsi il problema soprattutto per coloro che sono avanti negli anni grazie al dottor del giudice grazie a voi telespettatori che anche oggi ci avete voluto seguire alla prossima grazie buona sera